Ben trovati all'appuntamento settimanale dedicato alla nutrizione e al benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi parleremo della cannella, una spezia utilizzata nell'antichità ma che anche oggi è spesso utilizzata in cucina soprattutto per la realizzazione di dolci ma non solo. Sì esatto, la spezia della cannella si ricava appunto dai rami, dai fusti di due varietà principali di piante appartenti alla famiglia delle lauracee. Lo Sri Lanka è il maggiore produttore appunto di questa spezia che come dicevi tu ha tantissime proprietà. Iniziamo col dire le calorie che per 100 grammi sono circa 250, è ricca di sali minerali quindi potassio, magnesio, ferro ma anche molte vitamine come le vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina A e vitamina K. Però quelle sostanze che conferiscono alla cannella le maggiori proprietà organolettiche e fitoterapiche sono soprattutto la ricchezza di polifenoli, di terpeni, la camfora, l'eugenolo. Quali sono queste proprietà? Allora innanzitutto è molto studiata per quanto riguarda i diabetici perché si è scoperto che una molecola dall'abbreviazione MHCP è in grado di attivare i recettori dell'insulina quindi aiutando a controllare la glicemia nel sangue. Se a questo poi ci aggiungiamo anche il basso indice glicemico della cannella insomma ne viene un alimento, una spezia molto utile per i diabetici. È molto ricca di fibre quindi aiuta a raggiungere un certo senso di sazietà. Viene utilizzata nelle diete anche perché si è scoperto che è una molecola che è la responsabile del classico aroma di questa spezia cioè molto deciso, pungente, a volte anche piccante ma anche con delle note dolci, è in grado di indurre la termogenesi cioè il bruciare dei grassi e quindi potrebbe favorire la perdita di peso. Però ricordiamo come sempre che ovviamente per perdere peso non dobbiamo affidarci sempre a un singolo alimento, una singola spezia come in questo caso ma il tutto deve essere contestualizzato all'interno di una dieta ipocalorica equilibrata. Altre proprietà riguardano le capacità antimicrobiche di questa spezia e in effetti viene spesso utilizzata per tutte quelle malattie da raffreddamento del caporale, classica per esempio la tisana, cannella e miele. Ha una grande ricchezza di molecole antiossidanti e quindi anche in cosmesi viene molto utilizzata per quanto riguarda il ritardare l'invecchiamento per piccoli disturbi della pelle e poi è in grado di stimolare i succhi gastrici quindi favorisce la digestione soprattutto dopo dei pasti molto abbondanti. Quindi la cannella ha tantissime proprietà ma ci sono anche delle controindicazioni? Sì, allora è controindicata per chi soffre di disturbi gastrici, per chi soffre anche di disturbi al fegato, per le donne in gravidanza, in allattamento e poi ci possono essere delle possibili allergie. Però anche per tutti gli altri, quando si fa un uso eccessivo di questa spezia, che ricordiamo la dose giornaliera consigliata è di mezzo cucchiaino, quindi circa 3 grammi. Quando invece se ne fa un uso molto eccessivo si possono avere dei disturbi come tachicardia, sudorazione, diarrea e anche sonnolenza. E poi è importante dire anche che interagisce con alcune categorie di farmaci, quali i FANZO, cioè i farmaci antinfiammatori non steroidei e i farmaci per il diabete. La troviamo in commercio sotto forma di polvere ma anche in sticche? Sì, esatto, si può trovare sotto varie forme, la polvere, i bastoncini, l'olio essenziale, appunto per delle tisane, anche degli integratori. Dipende dal consumo, comunque dall'utilizzo che se ne vuole fare. Chiaramente in cucina viene spesso utilizzato, appunto come dicevi tu, per i dolci, però anche per condire dei piatti, quindi semplicemente utilizzando la polvere. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana.